Musica Ciao a tutti ragazzi siamo ritornati con il sito a bestia e oggi abbiamo un sito da pulirsi il culo Un sito dove ci si può finalmente pulire il culo Però prima bisogna prendere la carta igienica E' un sito molto utile per chi vuole pulirsi il culo Certo non vi pulite il culo con il monitor però Andiamo a vedere il sito e voilà eccovi qua abbiamo un bel rotolo di carta igienica Certamente srotoli pure un po' alla volta srotoli la carta igienica Srotola Vai srotola la carta igienica Guarda l'utilità il pathos che regala questo sito Bello finalmente sappiamo come srotolare la carta igienica Certo non riusciamo mica però a strappare i pezzettini bisogna srotolarlo tutto Bestia oh guarda che un rotolone regina questo sai quanto è lungo Vai vai vediamo cosa succede alla fine Dai dai Siamo quasi arrivati alla fine abbiamo così srotolato tutto Eeeh Vai vai Addio Bello Bello veramente Non ho parole non ho parole veramente è veramente un sito molto utile Chi ha bisogno di qualcosa che fa cagare questo veramente lo esprime in tutta la sua bellezza Niente ragazzi noi mentre mio figlio sta ancora srotolando della carta igienica Eh vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video Vabbè è vero che lo lascio nella descrizione questo link I siti a bestia eh Vero che questo è un buon sito lo lascio anche in descrizione Si nel caso che questo video abbia fatto cagare Meno la gente c'è la carta igienica per andare a pulirsi E per andare a cagarci sopra al nostro video Niente ragazzi noi ci salutiamo ci vediamo nel prossimo Ciao a tutti Ciao Basta scaricare la Cazzo mi hai vuotato il monitor della carta igienica Basta Basta